La regione del Kivu, nel Congo. Da un aereo si gettano fiori sulla zona di Kindu, dove nel novembre del 1961 13 aviatori italiani vennero barbaramente trucidati. In quell'occasione si parlò del colonnello Pakassa come del maggiore responsabile. Quel nome, nei giorni scorsi, è ritornato sulle cronache dei giornali, ricordando a molti italiani il lutto di due anni fa. Ricordate cosa avvenne a Kindu il 16 novembre 1961? Ecco come Sergio Zavoli, inviato della radiotelevisione italiana, riuscì a documentare l'accaduto in un crudo e rapido reportage. Alcuni episodi storici sono estremamente oscuri, bui. A volte vengono colpevolmente dimenticati. Non dagli storici, per carità, non stiamo dicendo questo. Vengono dimenticati dalla memoria collettiva, che è molto peggio, perché non ha senso fare opera divulgativa, anche quella che facciamo noi dentro la storia, se nessuno poi ricorda, se nessuno tramanda e se nessuno tra insegnamento dal passato. Che senso c'è nel voler raccontare la storia se poi quello che noi diciamo passa di mente, non ci si sofferma, non si riflette, non si impara? È qualcosa che ogni tanto noi divulgatori ci domandiamo. Ha senso? Se io vi parlo di eccidi, chiaramente potreste pensare a Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, le classiche stragi del periodo bellico. Se poi vi parlo di stragi, addirittura pensate subito alla strage di Bologna, alla strage di Piazza Fontana, le stragi appunto del periodo degli anni di Piombo. Ma se io vi dico eccidio o strage di Kindu, quanti di voi sanno di cosa sto parlando? Quanti conoscono la storia dell'eccidio di Kindu? Quanti sanno dov'è Kindu e che cosa è avvenuto lì nel novembre del 1961? Ok, immagino che ci siano diversi di voi con il sopracciglio inarcato e pochi con il dito alzato per dire sì, la so. Non è un quiz televisivo? Facciamo divulgazione storica. E allora parliamo di questo eccidio di Kindu. Qui, in questa villetta che sembra pronta ad accogliere un party, avvenne il primo atto della tragedia. Ora è il maggiore Daud che parla. Eravamo a 24 persone, 13 italiani, 10 uomini miei ed io. Alle 16 e 15 arrivò uno scaglione di 80 congolesi. Ci chiudemmo dentro e raccorsi subito i documenti d'identità. Spondarono la porta. Nessuno aveva armi tranne un mio ufficiale. Furono tutti malmenati, io venivo tenuto contro il muro con una baionetta alla gola. Un italiano, mi pare il medico, fuggì dalla finestra e per lui la tragedia finì subito. Qui era la tavola della mensa. Alle 16 e 30 giunsero altri 300 congolesi. C'era anche il colonnello Pacasa. Non sono spie di cionbe, dicevo, e indicavo le divise, i fregi, il distintivo dell'ONU, le carte di identità. Colpirono col calcio del fucile. In terra ancora i segni di quella violenza. Alle 16 e 50 riportarono via. Ma per parlarne dobbiamo andare molto indietro nel tempo. Kindu è in Congo. Quello che per lungo tempo è stato chiamato Zaire è nel cuore della cosiddetta Africa Nera. È una cittadina. E nel 1961 si trova nel bel mezzo di una guerra civile. Una guerra civile che ha radici molto antiche. Il Congo per lungo tempo è stato una colonia belga. Sotto il dominio di Leopoldo, re del Belgio, era diventato un inferno in terra. Perché il Congo, ricchissimo di risorse naturali, gomma, cauciu, diamanti, uranio e altri materiali preziosi, era diventato un dominio personale del re del Belgio, che lo aveva sfruttato a più non posso, riducendo in schiavitù la popolazione locale, che era morta a decine, centinaia di migliaia, per soddisfare la cupidigia del sovrano. Col passare del tempo e con le riforme, la colonia è diventata qualcosa di diverso, qualcosa di più umano, al punto che intere famiglie belghe avevano deciso di trasferirvisi impiantando la propria attività economica. Chi l'industria, chi il commercio, chi l'agricoltura, le piantagioni. Ma nel 1960 il Congo reclama e ottiene alla fine l'indipendenza. Il 1960 effettivamente è un periodo maturo per le dichiarazioni di indipendenza. Due anni dopo arriverà quella dell'Algeria. Nel frattempo diversi stati, già parte di dominazioni europee, hanno ottenuto in vari modi l'indipendenza. L'India e il Pakistan in maniera non violenta, il Vietnam con una guerra vera e propria contro la Francia. Il Congo ottiene l'indipendenza sulla spinta di movimenti d'opinione anticolonialisti e grazie anche all'opera di due uomini politici. Questi due uomini politici sono Joseph Casavubu e Patrice Lumumba, due politici che potremmo definire quasi agli antipodi. Casavubu, educato all'occidentale, diremmo oggi un moderato, legato fortemente agli interessi europei. E Lumumba, invece, che aveva studiato all'Università di Mosca e di estrazione decisamente socialista, con una forte vena polemica nei confronti degli europei in generale, e dei Belgi in particolare, che riteneva essere degli affamatori e dei massacratori del suo popolo. Per metterli d'accordo serve solo la causa dell'indipendenza. Una causa che viene propugnata a tutti e due, anche se in maniera diversa, e che li vede alla fine uniti, l'uno Casavubu come presidente della nascente Repubblica del Congo e l'altro Lumumba come primo ministro. Certo, non è semplice per il Belgio separarsi dalla storica colonia. Non lo è non solo per la forte presenza di civili europei, ma soprattutto perché il Congo, come abbiamo detto, è molto ricco e il Congo è fortemente dipendente dalla presenza belga. La pubblica amministrazione è interamente nelle mani dei Belgi e l'esercito, l'Armée nationale congolais, nata convertendo la vecchia force publique a un corpo ufficiale composto al 100% da bianchi, da Belgi. È un problema, effettivamente. E il fatto che il Congo non sia una nazione semplice, per quanto nuova, lo si vede già nel giorno della proclamazione dell'indipendenza. Quando un ragazzo congolese si impadronisce della sciabola di Re Baldovino, che è sceso a Leopoldville per firmare la dichiarazione di indipendenza e che sta procedendo imparata su un'autoscoperta, si impadronisce di quella sciabola, quel ragazzo, e va via urlante pazzo di gioia, prima di essere arrestato e poi ucciso. Quello è il segnale delle tante contraddizioni che covano all'interno del Congo. Contraddizioni che esplodono nelle settimane successive all'indipendenza, perché Casabubu e Lumumba proprio non vanno d'accordo. Casabubu vorrebbe esautorare Lumumba, che dal canto suo preme perché tutti i bianchi vengano espulsi dal paese. A quel punto si vede effettivamente che le tensioni sono forti, ma non basta. C'è un terzo leader, un leader emergente, si chiama Moisés Chombe ed è katanghese, cioè è originario di quella regione, il Katanga, nel sud del paese, che è la regione più ricca a livello minerario. Chombe dichiara l'indipendenza del Katanga, ma non lo fa in maniera del tutto autonoma o spontanea. Lo fa perché è sostenuto finanziariamente dall'Union Minière, una multinazionale belga che ha tutto l'interesse a mantenere il controllo della regione mineraria, perché in Katanga si estraggono diamanti e uranio, elementi molto preziosi. Contro la secessione del Katanga si muove il resto del Congo, che però nel giro di qualche settimana si frattura in due. Perché? Perché il nuovo capo dell'esercito, Joseph Desiree Mobutu, il futuro Mobutu Seseseco, con un colpo di stato incruento, prende in pugno la situazione. Mantiene Casabubu alla presidenza, ma sostanzialmente senza poteri e mette agli arresti Lumumba. Il vice di Lumumba, Jizenga, a quel punto avvia un'altra secessione, quella dell'est del paese, con capitale Stanleyville. E quando Lumumba tenta di scappare verso Stanleyville, viene ripreso, buttato in Katanga e lì trucidato, assieme a due suoi ministri, dai gendarmini katangesi. La guerra civile è così forte, così violenta, da richiamare in zona l'ONU, che invia un contingente che alla fine conterrà quasi su 20.000 uomini, tanti. Se pensiamo che l'armè nazionale congolese conta su 19.000 uomini e che una bella aliquota dell'ANC è passata sotto Jizenga quando ha proclamato l'indipendenza. È un casino il Congo, detto pari pari. È un casino tale che in zona viene anche richiamato il segretario generale dell'ONU, Doug Ammaskjold, anche perché Ciombe, con tutti i soldi che gli arrivano dalla vendita dei diamanti e dal supporto dell'Union Minier, ha ingaggiato i mercenari europei e sudafricani che arrivano in zona per combattere a contratto e sono estremamente feroci ed efficienti. Doug Ammaskjold ci prova, cerca di mettere pace, ma non ci riesce, anche perché qualcuno fa cadere il suo aereo. Certo, le risultanze della commissione d'inchiesta sul tragedia aerea di Doug Ammaskjold non sono mai giunte a una risultanza assoluta che dimostri che non si sia trattato di un guasto piuttosto che di un errore del pilota. Fatto sta che il suo aereo precipita nella giungla, uccidendo tutti gli occupanti, ma il sospetto che il velivo sia stato sabotato o abbattuto da terra viene coltivato ancora oggi. In questo quadro, in un quadro di enorme confusione, ci sono due aerei italiani, due Fairchild C-119 della 46esima aerobrigata. Hanno un equipaggio italiano, 13 tra ufficiali avieri, e sono incaricati di portare rifornimenti alla piccola guarnigione malese che si trova a Kindu, nel cuore del Congo, sotto il nominale controllo delle truppe ribelli di Stanley Bill, quelle di Gizenga. Non sono missioni semplici, anche perché l'unica forza aerea in zona, forza aerea combattente, è quella del Katanga, anche se effettivamente non compie incursioni di bombardamento troppo distante dalle proprie basi. Kindu, quindi, è a riparo da tentativi katangesi. Eppure, all'inizio di novembre del 1961, circolano delle voci piuttosto allarmate. Non si capirà mai chi le ha messe in giro. Circolano delle voci, secondo cui, nel breve volgere di qualche giorno, a Kindu dovrebbe sbarcare un commando paracadutista mercenario. I mercenari di Shombé, i temutissimi, terribili, les affreux, che scatenano il panico solo a nominarli nella truppa di Gizenga. Ma chi ha messo in giro questa voce? Perché non è vero. Innanzitutto Shombé non ha paracadutisti, in secondo luogo non ha aerei da trasporto per inviarli così distante. E poi perché dal Katanga dovrebbe muoversi un commando paracadutista per andare a prendere Kindu, che è molto distante da linea di rifornimento? Nessuno ci pensa, nessuno usa la logica. C'è solo tanta paura e tanta rabbia. Kindu ribolle dalla rabbia. E quando il 12 novembre del 1961 quei due aerei da trasporto decollano, decollati la sera prima, arrivano a Kindu, la situazione è esplosiva. E' ancora peggio perché non ottenendo subito l'autorizzazione all'atterraggio, i due aerei compiono un paio di giri sopra l'aeroporto. Quelle manovre mettono in allarme la guarnigione congolese locale. Sono loro, quei duemila soldati fedeli a Gizenga, che vedono questi aerei e pensano, questi sono i paracadutisti che ci hanno detto sarebbero arrivati, stanno arrivando, vengono qui per farci la pelle. C'è chi dice che i congolesi siano ubriachi o comunque sobillati da qualcuno. Non si troverà mai le prove di tutto ciò. Quel che è certo è che a bordo di quegli aerei non ci sono armi. I 13 italiani a bordo, comandati dal Maggiore Parmigiani, sono disarmati, sono inoffensivi. A bordo hanno solo cibo e medicinali. L'obiettivo è quello di atterrare, far scaricare gli aerei, mangiare qualcosa, a ripartire. Alle 14 gli aerei prendono terra e gli equipaggi vanno verso una villetta ai margini della pista che funge da ricovero e da messa. Al primo piano della villetta è stata istituita effettualmente la messa ufficiali. Sono lì che stanno mangiando, in compagnia di alcuni ufficiali malesi, quando nella villetta fanno eruzione 200 soldati congolesi, armati fino ai denti. Chiedono che gli vengano consegnati i bianchi. D'altronde gli unici bianchi lì sono quei 13 italiani. L'ufficiale comando dei malesi di Maggiore Mod si oppone. Dice che quelli sono italiani, non hanno fatto niente. Sono truppe ONU. Sono lì solo per portare viveri e medicinali. Non sono armati, non sono paracadutisti, non c'è nessuna minaccia. Niente, non viene creduto. I congolesi vogliono i bianchi. Vogliono prenderli e vogliono rinchiuderli in prigione. Hanno le armi in pugno. Uno degli italiani, il tenente medico Francesco Paolo Remotti, si fa prendere dal panico. Si lancia attraverso una finestra, cade a terra, ma non fa nemmeno in tempo a fuggire, perché i congolesi gli sono subito addosso e a colpi di calci di fucile lo ammazzano. I dodici italiani superstiti raccolgono il corpo di Remotti e alle 16.50 circa vengono costretti dai soldati congolesi a radunarsi nella prigione locale. Remotti non viene nemmeno sepolto all'inizio. Viene semplicemente avvolto in delle coperte. Il suo corpo resta lì in una cella per un giorno intero. Intanto l'ONU, attraverso il maggiore Maud, prova a capire come muoversi. Che sia il caso di fare un'azione di forza? No, perché la guarnigione malese è molto piccola e non potrebbe opporsi contro 2000 uomini armati di tutto punto. Maud cerca di parlare col colonnello Pacassa, il comandante del presidio locale dei congolesi, che però si dimostra irremovibile. Per lui quelli sono mercenari europei. Poco conta che abbiano le insegne dell'ONU, poco conta che non parlino fiammingo, ma solo italiano e chiaramente francese. Per lui quelli sono mercenari e come mercenari vanno trattati. Maud cerca di parlare con i suoi superiori dell'ONU. All'aeroporto arriva anche il generale Lundula, assieme ad altri funzionari dell'ONU. Si fa spiegare la situazione, il generale cerca di capire come agire, ma l'impressione è che il colonnello Pacassa e i suoi ufficiali abbiano perso il contatto con la truppa. La truppa ormai è fuori controllo. La truppa ha già deciso che quelli sono mercenari e devono morire. Mentre proseguono le trattative, sono proprio dei soldati di truppa a entrare nella prigione, aprono le celle, imbracciano i mitra e fanno la strage. I dodici italiani muoiono così. L'ecidio di Kindu arriva sui giornali italiani dopo un po' di giorni e arriva in maniera frammentata. C'è chi parla di violenze, c'è chi parla di mutilazioni, di torture. Qualcuno scrive soldataglia congolese, altri dicono che i soldati erano drogati. Qualcuno scrive che forse il problema era il fatto che gli aerei italiani non avevano i contrassegni giusti. Le notizie sono frammentate. Il 1961 non è come oggi, in cui il mondo è globale e con poco si possono ottenere le notizie, con semplice ricerca su internet o in altro modo. Serve un po' di tempo per fare piena luce sull'ecidio. Serve un po' di tempo, il tempo per anche trovare la fossa in cui sono stati sepolti gli italiani. I dodici trucidati nella prigione e il tenente medico che era stato ucciso con i calci di fucile in precedenza. Il ritrovamento della fossa comune almeno sgombra il campo da mutilazioni o altre ipotesi raccapriccianti. C'è da dire che nel frattempo l'ONU non si era mossa. Temeva che ci potesse essere una rappresaglia nei confronti di questi aviatori, pensava che fossero ancora vivi e prigionieri. Non sapevano i funzionari ONU che in realtà quei tredici sfortunati erano già morti. A informare le famiglie sarebbe stato il custode del carcere, che si era anche occupato della sepoltura provvisoria dei cadaveri, per evitare che potessero essere oggetto sì di riti macabri post-mortem. Il custode aveva contattato due italiani presenti a Kindu e questi si erano messi poi in moto con la Croce Rossa. Serviranno ben tre mesi perché l'ONU possa tornare a Kindu a recuperare i cadaveri degli italiani e a far esumare le salve e spedirle in Italia. Un periodo molto lungo, un periodo in cui si continuerà a combattere in Congo. Ci vorrà parecchio tempo, prima di un vero e proprio cessato il fuoco, prima della resa di Jitenga, della fuga all'estero di Shombé. Ci vorrà molto tempo. Fino ad allora si continuerà però a parlare di eccidio inspiegabile. E ancora oggi ci domandiamo perché gli italiani dovevano pagare il conto a Kindu. Quali erano gli interessi in gioco? Perché accusarli di essere parcautisti belgi al soldo di Shombé? Ancora oggi non riusciamo a dare una risposta completa. Ci sono solo delle ipotesi. Una di queste è che in fondo gli italiani dessero fastidio, come tutte le altre truppe ONU. Con la differenza che mentre le altre truppe provenivano da paesi ex-colonializzati e quindi con un minimo di sensibilità nei confronti del Congo, gli italiani erano bianchi, europei, non erano eritrei, non erano etiopi, non erano maliani, non erano malesi, quindi erano sacrificabili. Di un gioco molto più grande di loro. È questo quello che ancora oggi fa abbastanza specie dell'incidio di Kindu. Che dei soldati, lì disarmati in missioni di pace, arrivati solo per portare sollievo alla popolazione, per portare cibo, acqua, medicinali, abbiano dovuto pagare con la vita il conto di una guerra civile così tragica e così dolorosa. Una guerra civile che si sarebbe poi trascinata ancora per tanto tempo. Pensiamo alla rivolta dei Simba, pensiamo al colpo di stato definitivo di Mobutu. Pensiamo alle due rivolte, quella del 66 dei Katanghesi e quella del 67 dei mercenari, di cui abbiamo già parlato in un altro video. Sono queste le grandi tragedie che a volte ci fanno dimenticare tutto ciò che è avvenuto. Perché se nell'imminenza dell'anniversario dell'incidio di Kindu nessuno sembra più ricordarsene, forse significa che al di là dell'emozione accusata dall'opinione pubblica in quei giorni, al di là dello sdegno, al di là di tutto ciò che è stato provato nell'immediatezza, allora forse abbiamo perso la memoria, forse abbiamo perso anche un po' della nostra umanità e sicuramente abbiamo perso parecchio del senso pratico della storia e della sua importanza nella nostra educazione civica quotidiana. Ricordate cosa avvenne a Kindu il 16 novembre 1961? Ecco come Sergio Zavoli, inviato della radiotelevisione italiana, riuscì a documentare l'accaduto in un crudo e rapido reportage. Qui, in questa villetta che sembra pronta ad accogliere un party, avvenne il primo atto della tragedia. Ora è il maggiore Daud che parla. Eravamo 24 persone, 13 italiani, 10 uomini miei e Dio. Qualcuno sulla veranda, gli altri all'interno. Questa finestra era aperta. Di qui uno di noi tenterà di fuggire. Alle 16 e 15 arrivò uno scaglione di 80 congolesi. Ci chiudemmo dentro e raccorsi subito i documenti d'identità. Sfondarono la porta. Nessuno aveva armi tranne un mio ufficiale. Furono tutti malmenati. Io venivo tenuto contro il muro con una baionetta alla gola. Un italiano, mi pare il medico, fuggì dalla finestra e per lui la tragedia finì subito. Qui era la tavola della mensa. Alle 16 e 30 giunsero altri 300 congolesi. C'era anche il colonnello Pacasa. Non sono spie di ciombe, dicevo, e indicavo le divise, i fregi, il distintivo dell'ONU, le carte d'identità. Colpirono col calcio del fucile. In terra ancora i segni di quella violenza. Alle 16 e 50, li portarono via.